Vai Chris eh! Vai Ale! Ok ragazzo, fate la vista. Purtroppo c'è Cristo. Tutta! Vai Ale! A Cristo! Le dita! Vivo! Vai Ale! Icri! Bravo! L'arbitro! Centro! Centro! L'arbitro! Polso! La roccia! Go! Arkira!!!! Yiyiyiy! He lo mode! Oh! Vai Ale! Eh ale! Have a given access, confirmators! аш! Scusa le dita! Scusa! Ale! Il gomito! Non c'è il tratto! Non c'è il tratto! Non c'è il tratto! Arbitro! Centro! Vai Ale! Non mollare la presa! Tranquilo! Non c'è il tratto! Non mollare la presa! Sopra! Dai Ale! Spalma! Fate la presa e non mollate! Non c'è il tratto! Ready? Go! Dai! Dai! Bene! Bene! Bravo! Non c'è il tratto! Non c'è il tratto! Non c'è la presa! Non c'è il tratto! Vai Ale! Vai Piolo! Vai Piolo! Vediamo! Vediamo! Ritiamo! Vediamo la presa! Grazie! Bravo! Bravo! Grazie! Punta lì! Vai Ale! Polso! Polso! Centro! Vieni la bacia di terra! Punta 3! Vieni, vieni, vieni!